Sono Marco ho 22 anni vengo da Salerno e studio economia alla LUIS. Ho deciso di partecipare al progetto volontariamente e in particolare l'esperienza qui all'Elis perché sapevo quello che facevano e la prima volta che l'ho visto ho detto un giorno anch'io vorrei fare qualcosa di simile. È un incontro di persone tutte diverse fra loro. Apri i tuoi orizzonti, conosci nuove cose che tu non immaginavi che esistevano. Quando vedi i ragazzini che sorridono e sono contenti di ciò che fai e lo apprezzano è una soddisfazione enorme. Questi bambini hanno un'energia incredibile cioè arrivano intorno alle otto e mezza appena mangiato iniziano subito a giocare non si fermano un attimo. L'istruzione, lo sport e il lavoro sono possibilità di riscatto in una società in cui è difficile oggi emergere. Il volontariato ha senso nella misura in cui ciò che si fa è sentito e viene dal cuore. Fatelo perché veramente ti cambia, ci dà qualcosa in più che il resto non ti può dare. Un sorriso di un bambino ti dà qualcosa di più.